Chi è? È Rigel. Di tutte le persone al mondo, Rigel era l'ultimo che volevo lì. Io devo andare in bagno. Perché ti sei lasciato a scegliere? Credi che l'abbia deciso io? Perché non le dici che ti sei fatto scegliere solo per restare con lei? Lei ha sempre sognato una famiglia. E non sapevo io portarei a me. Non esiste una favola in cui il lupo che per mano la bambina. E io per te sono il fabbricante di lacrime. Lui non è mio fratello. E' vero, non siamo fratelli. Mi odi? Mi odi Valena? Devi stare a te, Pa? Valena? E' quello che vorresti. Nica è convinta che tu la odi. E devi restare così. Sì, è quello che vorrei. Non eri tu a tenermi la mano, vero? Devi dirvelo che eri tu a tenerle la mano. Era Rigel. Un giorno capiranno chi sei veramente. Che cosa hai fatto. E perché chi sono? Tu sei il fabbricante di lacrime. Sono felice perché ci sei tu. Tu sei il fabbricante di lacrime. Sempre che il padre è possibile a tu fine. E se tu sei il lupo, ti posso immaginare una favola senza il lupo. Hai abbastanza coraggio per immaginare una favola senza il lupo. Voglio stare con te. Tu non hai detto Nicolai. E allora? Difficile. Non siamo rotti. Non siamo come gli altri. Ma forse ci siamo spaccati in mille pezzi solo per incastrarci meglio. Ma forse ci siamo spaccati in mille pezzi. По nessun giorno. Ma forse ci siamo spaccati in mille pezzi. Grazie a tutti